Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Ufficialmente era senza lavoro ma su Facebook postava foto da bella vita Arrestato dai carabinieri di Fano, un 24enne albanese per spaccio di stupefacenti Dal fiuto infallibile ecco Istore e Uro, i due nuovi arrivati nelle fiamme gialle di Pesaro Grazie a loro già sequestrati i 70 dosi di hashish 15 pezzi per comporre un puzzle che mostra il castello di Gradara di notte E il regalo di Natale del resto del Carlino per i suoi lettori Attesi 30.000 persone mercatini di Natale di Monbaroccio, sabato il taglio del nastro Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia sul canale 17 di Fano TV L'avete sentito poco fa dei titoli Dunque i carabinieri guardando anche sul profilo Facebook della persona indagata E hanno scoperto che non aveva da una parte nessun introito perché non stava lavorando Dall'altra però dalle immagini, dalle fotografie che questo soggetto pubblicava sul suo profilo Veniva ritratto sempre in situazioni da bella vita, possiamo dire così Insomma i conti non tornavano E così i carabinieri hanno iniziato a indagare e hanno scoperto che i soldi li guadagnava spacciando la droga Facebook, bella vita, champagne e selfie Un cocktail micidiale soprattutto per chi non ha un'occupazione stabile che giustifichi questo tenore da bella vita Cosa che non è passata inosservata all'occhio vigile dei carabinieri ai quali sono giunte numerose segnalazioni Ed il sospetto che Sander Marco, conosciuto col nome di Sandro, albanese di 24 anni, residente nel centro storico di Fano Tenesse questo tenore di vita sproporzionato, grazie allo smercio di sostanze stupifacenti Era balenato alla mente Dormiva di giorno e la notte la passavano i locali alla moda dell'Arzilla e del Lido di Fano Facendo innumerevoli selfie con l'immancabile bottiglia di pregio accanto E postandoli sul suo profilo Facebook dove contava un migliaio di amici I militari nell'osservare le mosse dell'uomo nella sua vita notturna hanno notato che mentre si tratteneva nei locali Aveva contatti molto fugaci anche con tantissime persone e soprattutto stessi locali alle stesse ore Un orologio svizzero Il motivo era che l'albanese così facendo non aveva bisogno di contatti telefonici con i clienti Tanto sapevano dove e quando trovarlo Anche i carabinieri infatti lo hanno trovato in compagnia di un cliente E lo hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione e spaccio di stupefacenti E condotti in carcere dove si trova tuttora in attesa di processo E con la bella vita sono spariti pure gli amici su Facebook Nuove rinforzi al comando della Guardia di Finanza di Pesaro Dove sono arrivati non solo uomini ma anche animali, ma due animali d'eccezione Che il cane sia il miglior amico dell'uomo ormai su questo non ci sono dubbi E lo è anche per i reparti speciali di polizia, carabinieri, ricerca e soccorso E anche della Guardia di Finanza Agenti molto speciali e dal fiuto eccezionale Le unità cinofile sono impegnate con notevole successo nel contrasto al traffico di stupefacenti Lo sanno bene al comando provinciale di Pesaro dove a settembre ed ottobre Sono arrivate due unità composte da un militare specializzato conduttore Ed un cane di razza pastore tedesco Dalla loro entrata in servizio Astor e Uro, i nomi dei due cani Hanno permesso di sequestrare 70 dosi di hashish e marijuana e 4 di cocaina E di segnalare all'autorità giudiziaria 3 persone per spaccio E 19 al prefetto per consumo di sostanze stupefacenti Quindi queste due unità cinofile verranno impiegate in attività antidroga sul territorio pesarese di tutta la provincia Quindi affiancandosi ai vari reparti presenti sul territorio pesarese Cercheremo di andare principalmente in quelli che sono i luoghi di passaggio Quindi ad esempio casei elettrostradali, stazioni ferroviarie Dove c'è il passaggio via vai di persone che potrebbero comunque essere interessate ad un traffico di tal genere Oppure luoghi di aggregazione, quali ad esempio locali di qualsiasi genere, piazze, qualsiasi luogo di aggregazione in genere In particolare anche le scuole Sono stati presi infatti accordi con i dirigenti scolastici di tutti gli istituti superiori qui di Pesaro In maniera tale da preventivare un impiego anche presso le scuole E cercare di fare repressione nel caso in cui ce ne fosse bisogno Ma anche e soprattutto prevenzione in maniera tale da cercare di diminuire Cercare addirittura di debellare se possibile il fenomeno nel territorio pesarese Stamattina sotto gli occhi ammirati di giornalisti e delle nostre telecamere Astor e il suo conduttore hanno dato dimostrazione della loro abilità Setacciando prima una fila di borse dove non vi era nulla E poi un'altra fila dove era stata occultata Una borsa contenente un manicotto imbevuto di una sostanza chimica innocua Per l'animale ma simile allo stupefacente Che non è sfuggita al fiuto eccezionale del cane Naturalmente per lui è un gioco irresistibile E per i militari una risorsa inestimabile e preziosissima E dalla fine tutti in posa soddisfatti e orgogliosi Il resto del Carlino, quotidiano che ha più di 130 anni di storia Questa mattina a Pesaro ha presentato una nuova iniziativa editoriale Dedicata ai suoi lettori Si tratta di un puzzle che verrà regalato insieme al giornale Un puzzle nell'era digitale può sembrare un omaggio anacronistico Di altri tempi in cui frenesia e social non scandivano il ritmo della nostra vita Ma la contemplazione, il bello, il rapporto materiale con gli oggetti Erano una componente essenziale della nostra quotidianità Il resto del Carlino, Pesaro, ha voluto creare un nuovo legame con i suoi lettori Da domenica 27 assieme al quotidiano la prima di 16 tessere di un puzzle Che una volta completato regalerà ai pazienti compositori Una splendida veduta di uno dei monumenti storici più rappresentativi Della provincia di Pesaro e Urbino, il castello di Gradara E quindi in edicola da domenica 27 per 15 giorni avremo queste tessere di questo puzzle E abbiamo voluto fortemente fare Ed è una risposta anche un po' all'esagerazione del digitale, dei social E di tutte queste cose che vanno tanto di moda oggi Questa è una roba che si tocca Si fa, si può dare ai bambini Si può dare ai ragazzi, si può dare agli adulti per passare il tempo La sera per Natale ci sarà È una iniziativa che il Carlino ha voluto fare con i suoi sponsor Banca di Gradara, Era con Marche L'abbiamo voluto fare perché crediamo nel ruolo del giornale Crediamo nel ruolo del giornale di carta E crediamo soprattutto nel ruolo del giornale istituzione Per questa provincia che è il Carlino La scelta di Gradara non è casuale Tutto parte da un'idea, dalla volontà di fare così Non solo un omaggio ai lettori ma a sottolineare un rapporto col territorio Certo, parte anche dall'idea di mantenere questa provincia unita Ed è molto complicato perché sapete tutti quanti litigi, quanti scontri su tutto in questa provincia Quanta rivalità e quanto campanilismo c'è Ecco la nostra idea, siccome noi siamo un giornale istituzione Siamo un giornale del territorio Siamo il giornale di questa provincia Vogliamo che questa provincia non perda altri territori Non ci siano altre secessioni E quindi i comuni di confine, i comuni a rischio I comuni dove la spinta per la Romagna è così forte Vanno sostenuti, mantenuti perché si può stare Come dire, in Romagna rimanendo nella provincia di Pesaro Urbino Non è che è un problema, i confini non devono essere un problema Come il campanilismo non deve essere un problema Partner ufficiali di questa iniziativa Due sponsor che più territoriali di così non si poteva La BCC di Gradara e l'Eracom Marche Noi operiamo in questo territorio storicamente Pensiamo che caratterizzare i nostri servizi In funzione delle esigenze del territorio Sia un valore per il territorio Lo facciamo attraverso il servizio dell'energia elettrica e del gas Promuovendo offerte che vanno nella logica di valorizzare le individualità Perché penso che un'azienda debba tenere conto Delle esigenze delle famiglie, delle aziende del territorio E noi questo facciamo e questa iniziativa ci sembrava proprio simbolica del territorio Noi siamo presenti sul territorio in diverse occasioni Gradara ha una rocca importante E noi siamo la banca del territorio Siamo una banca locale che dà molta attività Che presta molta attività e molta attenzione al suo territorio Questa era un'occasione in più appunto per entrare nelle famiglie Per entrare nelle case, per attirare ancora l'attenzione Su quello che noi facciamo per il territorio E continuano gli incontri laboratori organizzati dall'ente carnevalisca di Fano Per proseguire la campagna di sensibilizzazione dei giovani Nel tentativo di coinvolgerli attivamente al carnevale di Fano E diffondere così la tradizione creativa popolare della cartapesta Tra i maestri carristi intervenuti c'è anche il professor Pierluigi Piccinetti Che di fronte agli studenti del liceo artistico a Polloni Ha realizzato alcune maschere in gomma piuma di straordinaria bellezza Gli studenti hanno richiesto a gran voce l'intervento di Piccinetti Soprattutto per poter imparare al meglio le tecniche di lavorazione di questo materiale Nozioni che potranno essere utili agli studenti per realizzare la nuova mascherata Da presentare alla prossima edizione del carnevale Il Ministero dello Sviluppo Economico emetterà domani venerdì Sei francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica dal titolo Il patrimonio artistico e culturale italiano Tra questi sei francobolli c'è anche quello dell'atleta di Fano del valore di 95 centesimi I francobolli sono stati stampati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Gli sportelli filatelici degli uffici postali di Fano utilizzeranno il giorno di emissione I rispettivi annulli speciali realizzati da filatelia di poste italiane E a Monbaroccio sabato sono attese migliaia di persone per il taglio del nastro del mercatino di Natale A vederlo sembra fatto apposta per un villaggio di Natale I vicoli, le strade, gli angoli caratteristici e la piazzetta che sembra un piccolo presepe E' tutto pronto a Monbaroccio per l'apertura ufficiale sabato prossimo di E' Natale Il mercatino natalizio Otto giornate fitte di appuntamenti e di eventi che lasceranno anche quest'anno a bocca aperta Le migliaia di turisti provenienti da tutta Italia che vogliono respirare l'atmosfera natalizia Che solo un borgo come Monbaroccio riesce a regalare Chiaramente il mercatino di Natale ha assunto ormai una visione particolare, nazionale Per cui siamo diventati e abbiamo lavorato per quello Il primo probabilmente nel centro Italia a livello di importanza Un lavoro febbrile senza sosta quello dei volontari della Proloco Soprattutto delle giovani leve che rappresentano il futuro dell'associazione Che conta su un centinaio di persone che mettono passione e amor proprio Per illustrare a dovere il paese per turisti ed appassionati Sono una bella forza necessaria perché se no non andiamo avanti E noi puntiamo molto sui giovani perché comunque è il futuro La nostra manifestazione è in continuo sviluppo Quindi i giovani sono la nostra forza Il Natale che non ti aspetti rappresenta a livello provinciale Un asso nella manica per gli amministratori e regione Che hanno così un importante mezzo promozionale a livello nazionale Ma io direi che la provincia di Pesorubino è diventata già un brand A livello nazionale relativamente alle manifestazioni natalizie I mercatini di Natale che poi ci concludono anche con la festa nazionale Della Befana d'Urbania Abbiamo lavorato in questi anni cercando di far crescere queste manifestazioni Creando un brand e mettendo in rete tutte le iniziative Quindi non singolarmente sul mercato ma proponendosi e promuovendosi insieme A livello nazionale Questo lavoro che è ovviamente il frutto anche del lavoro Ovviamente dei volontari, delle proloco, delle amministrazioni comunali Sta dando risultati, ha già portato dei risultati E la provincia di Pesorubino è diventata un brand a livello nazionale Non solo per il collegamento per Bolzano ma perché di fatto ormai in tutta Italia Si sa che in questa provincia durante il primo natalizio è pieno di manifestazioni Ma che tra l'altro sono mercatini tutti nei borghi, nei centri storici Dove c'è tanto da vedere perché sono tutti gioiellini da visitare oltre ai mercatini Ora non rimane altro che attendere il taglio del nastro E poi sarà E Natale a Monbaroccio Un'edizione sicuramente speciale perché prima di tutto una grandissima novità Un accordo con Paolo del Signore Dove potrete venire a Monbaroccio e acquistare dei gadget Un'edizione limitata, dei gadget tutti in ceramica Che potranno essere acquistati nella piazza Monbaroccio dentro una casetta Altro accordo straordinario e importante è l'accordo con Bolzano Con il Comune di Bolzano, l'azienda di soggiorno e la provincia autonoma di Bolzano Che non solo quest'anno sarà a Monbaroccio ma sarà un po' in giro per il territorio provinciale Quindi abbiamo allargato gli orizzonti A Monbaroccio ci sarà l'accensione dell'albero di Bolzano E ci sarà anche l'eccezionale babbo natale della Thun Quindi la Thun anche quest'anno ha investito su Monbaroccio Quindi vi aspettiamo il 26 e il 27, il 3 e il 4, l'8, il 9, il 10 e l'11 dicembre I mercatini di Natale a Monbaroccio perché quest'anno veramente tante novità Tante location nuove ma soprattutto anche tante attività per i bambini Spazi dedicati ai più piccoli sicuramente non mancheranno Questa sera non andrà in onda Missione Salute La ritroveremo per l'ultima puntata il primo di dicembre Sempre in diretta alle ore 21 dopo il telegiornale Telegiornale che finisce qui Grazie per averci seguito Noi ci rivediamo domani mattina alle 7.30 per la Rassegna Stampa Occhio ai giornali, arrivederci Occhio ai giornali, arrivederci